Una scelta di continuità, come ho spesso annunciato, si tratta di una normale sostituzione. Abbiamo un assessore che ci onora del fatto di essere diventato senatore della Repubblica, quindi deve essere sostituito per nessun'altra ragione che non sia quella di essere stato promosso a un incarico superiore. Come è naturale, avviene un avvicendamento all'interno dello stesso gruppo, con gli stessi equilibri politici, nel rispetto degli stessi equilibri di giunta. Io credo che la giunta stia lavorando bene, stia facendo ottimi risultati. Sono contento, ho sempre dichiarato la mia soddisfazione per l'attività degli assessori, quindi intendo andare avanti con questa giunta. L'unica sostituzione che abbiamo fatto è appunto dovuta a causa di forza maggiore e a un fatto positivo, poi c'è appunto, ripeto, un assessore che abbiamo avuto il privilegio di vedere andare in Senato e da dove continuerà a svolgere la sua attività a favore della nostra regione. Quindi è la parola fine a una possibile rimpasto di giunta? Ma non c'è mai stata una parola inizio, io non so perché continuate a usare questo termine che di cui ho spesso detto che ho l'orticaria e che non intendo ascoltare né assecondare. Quindi come annunciato non c'è nessun rimpasto, non c'è mai stato, non è mai stato all'ordine del giorno e c'è stata una sostituzione in giunta fisiologica assolutamente normale e in perfetta continuità politica e amministrativa con l'azione che stiamo svolgendo. Grazie mille.